3-3-9, qua il discorso può essere un po' più complesso. Il 3-3-9 ho cominciato ad utilizzarlo ancora prima di andare a fare il comando della base di rivolto per fare la transizione sul velivolo per l'attività di volo semestrale. I piloti ormai fuori dalle linee volo, per mantenere il brevetto, lo devono fare ogni sei mesi, almeno il minimo erano sei ore di volo, che poi venivano tranquillamente superate, perché le attività che si potevano fare durante questa settimana circa di volo per recuperare quel minimo di capacità di pilotaggio potevano anche essere più intense. Ovviamente volare poi col 3-3-9, macchina inizialmente quasi nuova, era qualcosa di veramente bello. Era un 3-2-6 molto più potente, più performante, con caratteristiche anche di strumentazioni migliorate, pur essendo sempre abbastanza basiche, ma davano un aspetto intanto di un velivolo più operativo. Infatti il 3-3-9 poteva essere anche armato ed infatti i piloti della pattuglia periodicamente dovevano fare attività di tiro presso i poligoni per addestrare a fuoco, ossia col cannone montato in pod subalari, 30 mm defa, oppure il lancio di razzi o di bombe di media dimensione. Velivolo notevolissimo per la facilità di condotta in volo, per le capacità acrobatiche, con un'aerodinamica, che l'avrete visto sicuro nei voli della pattuglia, ti faceva fare cose con altri aeroplani che non sono possibili. Il volo folle, il volo strapponato a 20 metri dalla pista, dove era facile controllarlo, certo bisognava essere addestrati. La caduta, la scampanata, che vista così dice questo aeroplano cade indietro, chissà cosa può succedere. Niente, bastava semplicemente una volta in verticale, dovevi metterlo giusto, quando appena cominciava a scendere, clossa la pancia e il velivolo, il muso, piombava davanti e dopo mille piedi o poco più l'avevi recuperato tranquillamente. Certo, non dovevi sbagliare i momenti della manovra, non spedalare, non toccare altre superfici aerodinamiche, altrimenti rischiavi l'avvitamento. Ma era facilissimo da fare, come in tante altre manovre acrobatiche. Grazie.